Buongiorno, siamo qui con Francesco Parascandalo, migliore in campo nella partita tra Goalmania e Keller è finita 5-1 per i Goalmania sostituiti De Landra 0 gol portiere in seconda di De Landra ricordiamo che il 5-1 non è effettivo perché i Keller partivano un gol di vantaggio quindi Parascandalo non prende i gol come al solito ricordiamo anche il miglior portiere della Super Cup là che cazzo era vabbè, un commento su questa squadra vabbè sì, la squadra è fortissima, comunque riescono a giocare bene, palla a terra e comunque siamo forti poi io non gioco, quindi spero che vinca nel campionato ho capito, va bene, allora ringraziamo Parascand, vuoi farmi una dedica o qualcosa? hai segnato, hai fatto qualcosa no, io no all'università che stai facendo? è perché me la chiedi in telecamera va bene, grazie allora a Parascandalo